Non vi abbiate mai paura, non sarete soli mai come il Padre manda a me, io mando voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi abbiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Vi do un comandamento solo, che possiate andare avanti, io sarò davanti a voi. Vi do.